Torino che spettacolo! Oggi abbiamo presentato Eurovision 2022 che atterra a Torino, un grande evento internazionale della musica e grazie alla musica e alla presenza di questo evento nella nostra città, nella nostra regione, una vetrina fantastica per Torino in tutto il mondo. Centinaia di milioni di persone e telespettatori vedranno questo evento e questa è una grande opportunità per l'attrazione della nostra città. Quindi turismo, presenza in città, spettacoli, abbiamo lavorato con le Camere di Commercio per creare questo media center per i giornalisti che vanno a Torino e accompagneremo in tour guidati anche per un'esperienza sensoriale sulle nostre eccellenze enogastronomiche. Questa è Eurovision 2022, questo è il lavoro della Camera di Commercio insieme a tutte le istituzioni che hanno contribuito a portare questo grande evento nella nostra città.